ciao a tutti ben ritrovati a questo nuovo video reaction io sono analisa io sono valentina noi siamo le and your sisters per questa nostra terza video reaction abbiamo deciso che oggi vi faremo vedere un mv di gd and top the big bang zatter per questo ringraziamo le becca kpop sub per averci fornite sottotitoli in italiano dopodiché possiamo anche partire con la video reaction esatto allora partiamo con il video pronti 1 2 3 here we go ok ah vedi c'è anche scritto si fa la pipì becca kpop sub si di dietro allora non credo che le tute abbiano le zip si è sentito una zip di g dragon ma dubito che abbiano le zip con le tute comunque ah g dragon hai arancione i tuoi capelli a top e biondo molto è sempre gnocco top si molto il mio preferito è top sappiamo no no perferrazione sono più grande anche se ti hai detto tempo pretty boy wow mi vuole elettrizzare tutto malato è tutto malato loro malati la canzone malata il video è malato ma ci sono delle persone famose non le conosco non li conosco bene neanche io però so che sono dei cantanti famosi in corea poi mi direi chi sono sicuramente sui amici di entrambi penso più di giudicato che non c'è anche se non c'è 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 ma che scrivono il loro nome E si mangia anche Oddio Oh con la gamba Oddio Wow che bello Quanto mi piace top ragazzi Troppo bello Oddio un maiale era? Sì Oh Hanno scritto anche il nome del maiale Cioè vi rendete conto Anche il maiale ha un nome Don Ah hanno Oh ha detto Roma È stato censurato Qua starebbe in teoria Non lo so cosa stanno facendo Infatti ragazzi all'inizio del video Avete visto in alto destra che c'era 19 Penso sia l'inite dell'esame Sì in Corea sarebbe un po' forte Sì a quanto pare Non solo per le parole Alcune scene Sì sono un po' forti Ho capito quel dice In alcuni video censurano addirittura i coltelli O i genitali delle statue Adesso qui ho visto che hanno censurato il sigaro Che aveva la bocca Sì Pensate Capite che sono molto schizzinosi in questi Coreani Oh guarda Ragazzi La demenza Siamo due truffatori Avete presente la demenza segnata in due persone Eccole Beh così va meglio No ragazzi Sto spruzzando Oh no Sono fantastici ragazzi No lo sta colpendo Con l'urina Oh mio mio Siamo elettrici No ragazzi Questa cosa dell'urina era fantastica C'oro Oddio ma allora Il rap è malato La canzone è malata Tutto malato Ma loro non stanno bene Comunque questo si sapeva Che video ragazzi Cosa dire Sono rimasta senza parole Che voi non potete vedere Io anche Cosa dire Non lo so Io la canzone la conoscevo La canzone è malvita Non l'avevo ancora mai vista La canzone è carina La canzone è carina Non mi ha fatto impazzire Sinceramente Personalmente non mi ha fatto impazzire Perché alla fin dei conti È praticamente solo rap È solo parlato Io preferisco di più Altri tipo di canzoni Di Gillian Top Che sono molto più dance E techno Quindi la canzoncina Sì Orecchiabile Ma personalmente Niente di che Il video Sono rimasta ancora sconvolta Non lo so Sto ancora pensando Ad alcune scene Che mi hanno lasciata Senza parole Veramente Sono sconvolta Cioè Le stesse che hanno lasciato Tipo la pipì La pipì Ogni volta che andrò a fare la pipì Adesso Mi verranno in mente I Gillian Top Che si spruzzano di piscio addosso Scusate Un modo di dire Ma Tipico dei maschi Devo dire Scrivono il nome È uguale Io non so cosa dire Io mi immagino Le risate Che si sono fatti loro Nello spruzzarsi di pipì Finta Sicuramente È vero ma Significato era quello Non so immaginare io Però quante risate Si siano fatte Mamma mia ragazzi Non ho parole Non ho parole Veramente Ma io invece Allora ti dirò A me è più il genere Che si avvicina Sinceramente Mi piace Io adoro Tutto quello Che compone Top Sinceramente Che sia da quello più parlato A quello un po' più Cantato Il video mi ha fatto morire Mi ha fatto morire Fin dall'inizio Rap malato Musica malata Canzone malata Tutto malato Come loro D'altronde Top È il mio preferito Dei big band Ragazzi Altri quattro Cioè per carità Bellissimi tutti Sia come aspetto Che come Canzoni Come recitazione Tutti Però Top È il mio bias Il video è stata Una forza Una forza G-Dragon E Top Hanno questa caratteristica Che ogni volta Cambia un aspetto In ogni canzone Una volta i capelli blu Una volta lunghi Una volta corti Una volta rapati Una volta arancioni Guarda È una cosa sensazionale Per quello che mi piacciono Questi ragazzi E poi sono veramente poliedici Mi sono preciuti molto La scena della pipì Solo forse un po' Il pezzo del maiale Che sembra che Lo svisce Sì Sembra che tipo Faccia qualcosa al maiale Perché poi hanno proprio Censurato benissimo Mettendo addirittura Qualcosa di nero sopra Quindi proprio non si capisce Ma Penso che abbia a che fare Con il maiale Perché comunque era In mezzo al fango Con i maiali Quindi penso Stesse facendo qualcosa Al povero maiale Di cui non ricordo il nome Poverino Niente io Però Sono esattati Non aveva molto senso Però mi dispiace per il maiale E va bene È andata così Sicuramente Il test era stato finto Non è stato maltrattato Nessun animale Sicuro Precisiamo Però è stato veramente bello Perché GD Lo gira al contrario È God Dio Quindi anche questa esaltazione Di se stesso Tipico di G-Dragon Non che Non se lo meriti Comunque Però ragazzi Questa è stata la nostra video A me è piaciuta Moltissimo Sia la canzone Che il video A quanto pare Anche mia sorella Speriamo sia piaciuta Anche a voi Prima di salutarvi Volevamo comunque Ringraziarvi Per le 300 visualizzazioni Del primo video Speriamo Ce ne saranno Molte di più Però noi non speravamo Di arrivare neanche a 100 Figuriamoci 300 Mamma mia Vi ringraziamo Singolarmente Perché siete fantastici Continuate a seguirci Grazie 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 Per ognuno di voi Esatto 300 A ognuno di voi Tanti vaccini Vi auguriamo Ci vediamo Alla prossima video reaction Bye Ciao Ciao